Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di Farming Simulator 2013 Come vedete stiamo ancora in questo campo qui dopo 22.000 episodi Però ci servono balle quindi siamo costretti Allora, volevo intanto iniziare col dirvi che ho trovato due... No, una mappa nuova dove farò il video dopo questo video E quasi quasi ho già incominciato a vederla quindi diciamo che è totalmente diversa da questa E quasi quasi inizierei lì la nuova serie Comunque in questa serie come ho già detto mille volte andrò sempre avanti Non la finirò, cioè non la smetterò Però volevo portare avanti due serie tanto per cambiare qualcosina Allora, stiamo intanto voltando la nostra erba Perché ho visto che abbiamo solo tre balle quindi ce ne servono molti di più Intanto vediamo un po' Intanto ragazzi cosa ne pensate di questo gioco? Diciamo che io l'ho trovato veramente impressionante perché Il primo farming che ho giocato è stato nel lontano ormai 2009 L'unico problema è che invece di un gioco era un bug unico perché era pieno di bug quello gioco lì Tra l'altro non c'erano neanche gli animali quindi una fattoria senza animali non può esistere E' come una fattoria senza animali, cioè è come Insomma un paragone, come platinette senza ciccia, come malgioglio senza ciuffo, cioè Non esiste Non può esistere Invece in questo come vedete ci sono molti animali Tra l'altro nelle nuove mappe sono stati giunti anche i maiali I cavalli che abbiamo visto nella mappa che vi ho fatto vedere nell'episodio precedente Nello scorso video E poi con molti bug Mi ricordo che Quando attraccavo un attrezzo magari un po' pesantino come questo Vabbè questo non è molto pesante però Un po' pesantino Mi ricordo che il trattore faceva per dire un salto di una giravolta Non lo so neanche io Non lo so neanche io perché era una cosa impressionante Una giravolta di 392 gradi Finiva fino allo spazio Cioè una cosa assurda E se ti lanciavi con l'omino dal trattore mentre erai nello spazio Vedi questo omino che volta, volteggiava Anche lui nello spazio Come un astronauta che si lancia dalla navicella Nello spazio uguale E doveva iniziare il gioco ovviamente perché da lì non uscivi più Sì è una cosa un po' assurda eh Però era così ve lo assicuro Infatti in quel gioco lì non sono riuscito mai a fare niente Perché appena entravo sul trattore Cominciava questo giro nello spazio Impressionante quindi Veramente una cosa assurda E poi quando ti incastravi con i trattori Cosa che in questo gioco capita spesso Soprattutto a me Non c'era neanche modo per tornare indietro Quindi era veramente un gioco Orrendo Questo qua invece ha fatto veramente pass Bene che Sono passati 4 anni Quindi in 4 anni comunque I giochi hanno fatto veramente di passare il gigante Però questo qui è veramente 8.000 volte meglio di quello là Infatti sono curioso di vedere Come sarà il prossimo Che sicuramente lo prenderò Perché Per forza Però devo vedere se Intanto mi domanda quanto sto registrando Ok non lo so Però Voglio vedere se Se sarà uguale a questo Magari ci sarà qualcosa di aggiuntivo Allora sto registrando da non lo so Quindi Non è un buon segno perché Riuscire a un video lungo Troppo lungo Comunque sto contento che vi piacciono i video Come ho già detto nell'episodio precedente Sono veramente contento Sì il video della mappa che ho fatto È stato un po' un video fail Perché non me l'aspettavo che fosse Che fosse identica a questa mappa Quindi Però questa mappa qua vi assicuro che è veramente figa A parte non so se la conosciate Devo essere sincero Perché quella collina lì Veno male qualcuno già la conosceva Perché ho già visto dei video in giro Proprio su quella mappa lì Questa qua non lo so Perché è la prima volta che Che la sento Perché poi ho provato anche a A scaricare La mappa Big Europe Consigliatomi Appunto da voi Ma non mi piace Non mi piace perché ho visto che i campi sono Troppo grandi Quindi Diventerebbe Sarebbe Da spararsi Facendo video Su Quelle mappe lì Su quei Scusate Su quei campi lì Quindi Ok lì ho stato un pezzo Però non mi interessa Perché sennò stiamo qua fino a domani Dai Ora non ci resta che Compattare tutto Allora come si solleva Ok x Però prima di tutto ragazzi Io comprerei questo campo qui Ok ragazzi Scusatemi del Del crash Comunque no Volevo mostrarvi questa mod qua Scaricata questa mod qua Della banca Non so cosa è successo Mi sono ritrovato 334 mila euro Non so che cosa è successo Sinceramente ma Non so come funziona Quindi Chi ce l'ha Se riesci a A dirmi un po' Come funziona Perché qua Ti puoi Da quanto ho capito Ti puoi dare tutto quello che vuoi Guardate qua Anche dei milioni Ti puoi dare Però non ho capito se Come sempre Hai Devi pagare ogni giorno Una percentuale Tanta Ah forse sarebbe questa Sette giorni Trenta per cento al giorno Forse sì Per quaranta giorni Oh mio dio Questa qui per esempio È una mod Del Banca portatile Accedi a questo sito Sito diciamo Questa mod Da gps Per prelevare i soldi Senza andare Come sappiamo Di là Comunque non so cosa Ho fatto Mi sono ritrovato 334 mila Però sarebbe un casino Perché devo Pagare io Quindi Oh facciamo una cosa Allora Facciamo magari un 90 mila Che ne dite Allora 90 mila Ok Quindi mi ritrovo 123 mila Quindi dovrei pagare 900 euro al giorno Da quanto ho capito Per sette giorni Boh Vediamo Sì ho trovato questo modo ieri Ovviamente nel sito del gioco Quindi mi sono andato Su un sito diverso Su un sito del gioco Dove mette dentro il disco Esce Scarica mod L'ho fatta lì Quindi è Accessibile a tutti Allora Dicevo Dicevo Devo comprare questo campo qua 57 mila Ole Ora 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 Cosa fare Qua ragazzi Io ho pensato di fare L'orzo Perché come sappiamo L'orzo Dalle mucche Lo usiamo per fare Le balle rotonde Per fare le balle rotonde Perché l'ho spento Per fare le balle rotonde E Appunto per Per la paglia Però Come sapete Mi servono anche le balle Quadrate O rettangolari O rettangolari Quindi Esendo un campo Troppo piccolo Io ho deciso di farli qua Che comunque è un campo Abbastanza Abbastanza grande Direi Oh Ti attracchi o no? E dai Ok Quindi avevo pensato Di farlo Qua Lo coltiverei direttamente Con questo Che ne dite? Beh È l'unico Che ho qua Quindi Ok Vediamo Quindi Scegliamo Ora non mi ricordo Cosa ho Yes Yes No La raccolza no L'erba no Cosa faccio? Ma io farei questo Sì L'orzo Quindi Sì Olè Lavora Bello E lavora Bene Detto che questo lavora Noi finiamo Di fare l'erba Là Bene Cosa stavo dicendo? Che cosa stavo dicendo? Ho perso il filo Del discorso Ho perso il filo Del discorso Che cosa stavo dicendo? Non mi ricordo più Boh Vabbè Vabbè Comunque Andiamo avanti Con il nostro lavoro Allora Dispiega Ranghinatore Vabbè E accendi Ranghinatore Olè Eccoci qua Sempre Velocità 2 Perché se no Mi sfasa tutto Bene Ma porca di quella vacca Non mi metto la strada Oh che cazzo Stai facendo? Piano? Ok Iniziamo già bene Direi Cioè ragazzi Io dovrei fare Tutto questo campo Qui così Ma io Mi sparo A fine video Ma guardate qua È una cosa È una cosa Assurda È troppo enorme Per me l'ho sbagliato Dovevo Dovevo fare In un altro campo Perché così Perché il brutto Della erba È che devi farlo te E non c'è L'assumi operaio Quindi nei campi grossi Come questo A fine video Ti rinchiudono i mani Come perché Sei uscito pazzo Quindi Veramente Vabbè Vabbè Comunque Sì Ho visto che Il video Delle pecore È quello Che è piaciuto Di più E l'ho messo Da Da tre giorni E quindi Cioè da tre giorni Da quando ho fatto questo video Questo video caricherò domani Quindi sarebbe Quattro giorni E in soli tre giorni Già salito A A quasi Cinquanta Visualizzazioni E Un bel po' di mi piace Solo in tre giorni Ripeto Quindi Gli sono video Che ho messo magari Qualche settimana fa Che hanno meno mi piace Di questo video Quindi Mi fa piacere Anche perché a me La parte più bella Di questo gioco È curare appunto Gli animali Quindi Mi fa Veramente Piacere Comunque Seriamente Ragazzi Io veramente Esco pazzo Fare questo Campo qua così Qua devo anche Raccoglierlo Devo anche Raccoglierlo Pensate voi Pensate voi Bene Poi in quei due Campi lì Ragazzi Avevo intenzione Di Fare Oh porca Di quella vacca Dove cacchio Sto andando Di fare Qualche altra Coltivazione Ovvero Non vi dico niente Non vi dico niente Perché sarà Una sorpresa Però Fare qualcos'altro Di nuovo Diciamo che non ho ancora Fatto Ok Poi Le mucche Dobbiamo fare Queste balle Perché Ne ha solo tre E poi Mi servirebbe Anche altro Insilato Perché di là Sta finendo Comunque qua ne ho Veramente tanto Che devo ancora far Fermentare Però comunque c'è tempo Perché dirà Manca poco E poi Vabbè le pecole Le pecole sono Facili da curare Perché tanto Non mangiano tanto Basta che Gli metti l'erba E sono a posto Per tutta la vita Quindi le mucche Invece Sono quelle che Bisogna curare Comunque Vediamo un attimo I dati Tanto per curiosità Allora Vabbè qua Come sempre Ho dentro la colza Il grano Ok Olè Ragazzi Ma porca Di quella Lorgia Perché mi aumenta Al 15% Mi chiedo io Ora Se mi si è bruciata La colza Che ho di là Mi arrabbio Comunque ragazzi Come vedete Sono arrivato al 100% Ed è pieno tutto Perché hanno fatto Il concime solido Che quasi quasi Nel prossimo episodio Vedremo di raccoglierlo Mi serviranno altre trezze Comunque vedremo Nel prossimo episodio Comunque vedete Al 100% Tutto numerato Come piace a me Tutto numerato E poi Sono un pirla Perché esco E poi Vediamo qua Eccoci qua Anche le pecole Sono ovviamente Al 100% Perché mangiano solo l'erba E Allora Ok Anche il casino Vabbè E anche qua 100% Con 3% Di lana Quindi penso Che ci sia già giù Qualcosa Che però Vedremo Come sempre I prossimi episodi Bene Sono contento Ragazzi Sono contento Perché finalmente Abbiamo raggiunto Il 100% Delle mucche Che non è una cosa Assolutamente facile Poi Essendo all'inizio Come noi Perché siamo appena Neanche al ventesimo episodio Quindi siamo veramente All'inizio E ho visto anche Molti video in giro Che al quarantesimo Non hanno ancora le mucche Quindi Diciamo che sono Veramente Anzi Siamo veramente Avante Siamo veramente avanti Allora Qui veramente Starò qua Tutto il giorno Starò qua Tutto il giorno Oh mamma Cioè ragazzi Dovrei fare Tutta questa Cosa qua Ma una cosa Comunque ragazzi Sto riuscendo A non fare Un taglio Nel video Finalmente Perché Così Vi faccio vedere Tutto Anche se magari Può sembrare Un po' noioso Però Diciamo che Esce molto meglio Che un video Pieno di taglie Poi io quasi quasi Già fermenterei Quella lì Che ne dite Magari a fine video La fermenterei Tanto in questo video Non riusciremo A raccoglierla Tutta A Cioè Non riusciremo Proprio A A voltarla Tutta Quindi Già Puoi raccoglierla Meno che meno Quindi Finiremo nel prossimo episodio Però a fine video Quasi quasi Ti comincerei Già a far fermentare Quell'inserato lì Così già Per le mucche È già pronto Comunque devo dire Che questo gioco Veramente Prende Veramente Prende un casino Perché È pieno di Di mod Pieno di Di cose Veramente È una cosa Incredibile Veramente bello Veramente Bello Guardate Mamma mia Sto tagliando Tutti i pezzi Sto lasciando Indietro i pezzi Però Allora Sto registrando Da Non lo so Quindi Veramente È un casino Veramente È un casino Perché Dovete sapere Che ogni volta Che inizio Dico sempre Oggi Mi devo ricordare Di segnare L'ora Perché Perché se no Mi esce un video Troppo lungo Dopo due secondi Inizio E mi dimentico Di segnare l'ora Quindi Non lo so Cioè Dopo due secondi Bene Bene che è una memoria E dai Allora Tanto Sto finendo Di coltivare L'orzo Per fortuna Però Vedete Ho fatto una cazzata Perché Facendo al 15% Adesso crescerà Al contrario Non crescerà Tutti insieme Perché L'asso C'è Si vede Che c'è un bottone Sulla tastiera Che serve Per aumentare La velocità Del raccolto Senza Entrare nel menu Che però Non ho ancora Capito Quale sia Perché ogni volta Che scaccio Qualche bottone Mi aumenta È veramente un casino Perché l'altra volta Sono andato là Non mi sono accorto Era al 60% Mi era bruciato tutto Quindi è veramente Un casino Ma non so Non riesco a capire Quale sia il bottone Mamma mia Veramente bello Sì Diciamo che Non so come mai Ma mi diverto di più Fare video senza tagliarmi Che pieno di tagli Forse perché Quando faccio un video Con i tagli Dovete sapere Che un video di 20 minuti A me Mi esce di 3 ore In questo caso Io farei il taglio Mi farei tutta questa parte qui Poi riprenderei Raccoglierei le balle Poi taglierei Mi farei Raccogliere le balle di tutto E uscirebbe un video Di 4 ore Anche se poi Sarebbe solo di 20 ore Perché è pieno di tagliarmi Di 20 minuti Perché è pieno di tagliarmi Invece così esce Facciamo un video genuino 20 minuti miei 20 minuti il video Anche se Cotevo guardare l'ora Ma non so neanche perché Perché non so neanche A che minuto siamo Comunque direi che Tra 5 minuti Tagliamo Anzi direi di fare L'ultimo giro E poi Tagliamo Poi nel prossimo episodio Comunque andrò un po' avanti Io perché Se no Uscirebbero solo 5 episodi Tutti così Mi porto un po' avanti Io e poi Continueremo insieme Comunque arrivati lì Io entrerei Un attimo A vedere A che percentuale Siamo E poi farei anche un salto Nella fattoria Ia iao Nelle mucche Per vedere un po' Come prosegue Con il concime solido Bene 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 Diciamo La nostra fattoria Sta proseguendo bene Dai 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 Allora come si spegne però Prima di fare Allora Con la B Poi X B X Ok Sì perché facendo così Come vedete La benzina si consuma Il doppio Quindi Usandolo noi Allora Vediamo Dai che siamo arrivati Olea Ok Alziamolo Senza far di da Oh Mazzola Eccolo qui Allora il primo Se non sbaglio Oh Sbaglio no Ciccio Ciccio bello Ciccio Ciccio Azzola Ancora X Non ancora V Ma che pirla Allora Questo qui Se non sbaglio Era già al 10% Quell'altro sicuramente no Perché si vede molto di meno Allora Sì però Se non schiaccio qui E infatti Copri il silo Ole E ole Guardate qua Che figata Che figata Che figata Allora qua dentro Se vi ricordate C'era il nostro Mais Guarda Oddio Ma che figata è Allora dentro qua C'era il nostro mais Qua dentro invece C'era l'erba Che però Non neanche Ah sì Ah 10% Giusto Giusto Quindi copriamo anche questo Ole Ma guardate qua Che figata Una cosa Bene Quindi adesso Non ci resta che Aspettare Che finisca Così poi Quando finisce Quello Dalle mucche Utilizzeremo Questo Ora qui Ah Qua è quasi finito Qua ci manca ancora tanto Però siamo riusciti a fare oggi Tre strisce D'erba Vabbè Detto così Sembra Suona un po' male Tre strisce d'erba Ma Non volevo Dire quello lì Allora Bene Posizioniamolo qua Ok Allora lì Ha finito Volevo vedere Un attimo qua Qua Da quant'è che non venivo qui Ragazzi Dal Indietro Indiretta dico perché poi All'ucispente vengo sempre Per coltivare qua Come vedete Però indiretta Veramente Da Dai primi episodi Che non venivo qua Ok Devo raccogliere Comunque quello lì Facciamo un attimo qua Dai Perché questo qua Serve sempre Per Per i soldi Perché se no Ok Allora Sì è un casino Però Dai 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 Su 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 Bene 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 Oh dove Cacca Stai andando E fermati Ok Svotiamola Dovrei anche Cambiare Questo Mititrebbia qua Questa Mititrebbia qua E dovrei prendere Qua la più avanzata Perché questa qui Non dura nulla Fa due strisce Ed è già completo Però Mi costa Veramente troppo E come vedete Che non ho soldi Perché Stiamo andando avanti Un po' Quindi Non mi avanzano i soldi Per Comprare quella lì Vedremo un po' avanti Ragazzi Magari Quando c'era Un'offerta De raccolta Come l'altra volta Ce la compriamo Perché questa qui Non dura assolutamente Nulla Ok Finito Ora Facciamoli passare tutti Perché Sono curioso Ok Pure qua Come vedete Ho raccolto la colza Ora La metto Ah Cioè No Prima Svotare Questa Mititrebbia qua Perché Sarà un po' piena E poi Andiamo a svotare Questa cosa qui Poi gli attrezzi Li metto via Io Gli ruggi spenti Perché Adesso non lo voglio Ok Eccoci qua Oh Piano 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 Che l'altra volta Mi sono Incastrato Ok Ah Vabbè A 14% Fermati Oh Ma che culo Che culo Bene No Vediamo Guardate qui Che agilità Ragazzi Veramente Un'agilità Impressionata Impressionante Impressionabile Vabbè Ok Andiamo a svotare Piano però Piano Piano Ok Ok Spegniamo Ok Ok Siamo qua Siamo qua Dove volevo Vediamo un po' Qua dentro Come funge Ok Dovremmo mettere Un po' Altra Ba No Come c'è che sia Un po' Di altra paglia Non adesso Logicamente Ma Vediamo un po' Quante ne è rimasta Ragazzi Una cosa Allora 100% Lì 30.000 Ottimo È rimasta 5.600 5.600 E Ne era 6.000 Quindi Diciamo che Allora Vediamo dove l'ha messa Dovrebbe avere la messa Automaticamente E infatti Olè Ecco Il nostro primo Concime Solido Che poi Lo utilizzeremo Più avanti Ma Vediamo Quando O anche Nei forse Episodio Quasi quasi Però Qua come vedete Ne manca poco Quindi Utilizziamo qua Veramente Comunque Sono contento Perché Abbiamo raggiunto Il 100% Di produttività E le mucche Da Veramente Tanti soldi Vediamo quanto Ce l'ha dato Perché No Non si vede Perché sono sotto Di soldi Altro Perché sono sotto Di altro 39 Il soldi Non scende Altro Cosa ho comprato Altro Azzo Ho comprato il campo Quindi Mi ha dato Se non sbaglio 20.000 Perché il campo Costava 57 Qua Sceso 39 Quasi 20.000 Ottimo I mangime Ce n'è Bene Con le mucche Siamo a cavallo Del west Qua Abbiamo completato E Andiamo L'ultimo Qua non mi interessa No Andiamo L'ultimo Quanti Trattori Quanti Trattori Che ci sono Ok Andiamo Qui Qua Ha finito Dov'è Oddio Ah Andato qua Ok Ragazzi Non vedevo più Trattore Era qua Dietro Bene Qua Ha finito Quindi Direi che Anche per oggi Tutto Nel prossimo episodio Faremo Qualcos'altro Ci porteremo Avanti Più che Qualcos'altro Perché ormai Le cose Sono sempre quelle Però Ci porteremo Ancora avanti Con la nostra Bella Fattoria Guardate quelle nuvole Sembra Cosa sembra Quella nuvole Vediamo un po' Le nuvole Non assomigliano A un cazzo Questo qua Assomiglia a un pollo Bene Quindi Diciamo che Per oggi è tutto Da simboletere tutto Lasciate un bel Mi piace Se vi è piaciuto Il video Ovviamente Un bel commentino Con dei suggerimenti Che vi apprezzo Sempre Quindi Facciamoci anche il bagno Che oggi Non ci siamo ancora lavati E Al prossimo Episodio Ciao a tutti